Una geografia politica in mutamento trasformata dall'ultima tornata elettorale. Dopo gli ultimi ballottaggi si aggiungono altre due amministrazioni a quelle non facenti capo al PD nella provincia di Arezzo. Montevarchi e Sansepolcro che vanno ad aggiungersi tra le altre ad Arezzo, Bibbiena, Inghiari, Subbiano, Monterchi, Pieve e Santo Stefano e Castiglion-Fiorentino. E' il 49,90% della popolazione dell'Aretino ad essere governata da amministrazioni alternative al Partito Democratico. Direi che è uno schema vincente che abbiamo inaugurato noi e che adesso sta andando avanti in tutto il resto della Toscana, non solo della provincia di Arezzo. E che ripeto porterà in futuro dei cambiamenti notevoli, ma li porterà nella misura in cui si scelgono dei candidati buoni, credibili, che il disegno politico vede il centrodestra tutto unito e che il PD è in fortissimo ridimensionamento. Cornioli ha fatto un ottimo risultato, non è classificabile come un comune di centrodestra ma è sicuramente un comune che non risponde al PD. Montevarchi la lascio per seconda, è il risultato storico, la prima donna sindaco a Montevarchi, il primo sindaco di centrodestra nella seconda o terza città più popolosa della provincia di Arezzo. Questo insieme agli altri ridisegna gli equilibri politici nella nostra provincia. E' un assetto, quello nella provincia retina, che rispecchia gli esiti delle ultime amministrative a livello nazionale e regionale, come la vittoria di Anton Francesco Vivarelli Colonna Grosseto, che andrà indubbiamente a ridefinire le dinamiche politiche e territoriali della Toscana sud-estra. Ma avere due capoluoghi di provincia su tre che rispondono al centrodestra, mettere in discussione certi equilibri che finora si sono trovati con molta difficoltà e che noi abbiamo dovuto subire. Credo che Vivarelli Colonna si tenerà un tavolo con me molto alla svelta, per definire quali saranno le politiche del centrodestra, circa i rifiuti, circa la sanità e altro. Grazie a tutti.